Attento, non fare come lei. Quell'imbecille finirà per rovinare tutto. Non ti preoccupare. Alle cinque sarà tutto risolto. Te lo assicuro. Telefonerò alle cinque. E spero che non sia Ruth a rispondere. Non risponderà, sarà morto. Vi ho portato da bere. Ah, lascialo. Ci penso io. Il tuo usi. Michelle e io abbiamo deciso di far pace. Sarebbe stupido serbarci l'ancore. Senza dubbio. Sarebbe stupido. E il tuo Martini. Ora non mi resta che augurarvi tanta felicità. Alla vostra. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Vieni a casa o preferisci che ci incontriamo direttamente nello studio dell'avvocato? Preferisco dall'avvocato, se non ti dispiace. Beh. Vieni a casa o preferisci che ci incontriamo direttamente nello studio dell'avvocato. Vieni a casa o preferisci che ci incontriamo direttamente nello studio dell'avvocato. Vieni a casa o preferisci che ci incontriamo direttamente nello studio dell'avvocato. Vieni a casa o preferisci che ci incontriamo direttamente nello studio dell'avvocato. Vieni a casa o preferisci che ci incontriamo direttamente nello studio dell'avvocato. Grazie.